La cucina di OrtoQui vi presenta l'orzotto alla birra con mela rossa cuneo IGP e speck Gli ingredienti per questa ricetta sono orzo perlato, birra chiara meglio se artigianale, olio extravergine di oliva, speck, noci, formaggio cremoso, burro, mela rossa cuneo IGP, uno scalogno, rosmarino, sale e pepe. Cominciamo tritando finemente lo scalogno. In una padella aggiungo un filo d'olio e metto ad appassire a fuoco dolce il mio scalogno. Aggiungo in padella l'orzo perlato, lo lascio tostare alcuni secondi, vado a tritare lo speck. Inserisco anche questo in padella e a questo punto sfumiamo con la birra. Aggiungo del brodo vegetale e proseguo con la cottura. Tagliamo la mela. Per questo piatto ho scelto la mela rossa cuneo IGP proprio perché è molto aromatica e gustosa. Siamo quasi a metà cottura, è il momento di aggiungere le mele. Un rametto di rosmarino, sale e pepe. Ed ora procedo con la mantecatura. Una noce di burro, un cucchiaio di formaggio cremoso. Il nostro orzotto è pronto. Decoro il piatto con una rosellina di speck e le fettine di mela rossa cuneo IGP. Terminiamo con le noci e buon appetito da OrtoQui, la cucina portata di tempo, tasche e territorio. Grazie a tutti.